Guarda! Poi la tappa al Silos, non la prima perché già la scorsa settimana c'era stato un sopralluogo. Stavolta però la sorpresa ad accoglierli un gruppo di profughi con tanto di spranghe ed un coltello. Ci sono stati attimi di tensione che si sono risolti con l'arrivo della polizia che però ha potuto solo raccogliere le testimonianze di Prez, Sturniolo e gli altri. Già che all'arrivo delle forze dell'ordine i profughi si sono dileguati sparendo all'interno del Silos. Grazie a tutti.